Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo cari amiche cari amici dell'almaracco domani si va a roma tutti a roma alle 21 al maxi 22 ottobre appunto domani nella selezione sezione freestyle della festa del cinema di roma sarà presentato in anteprima il film giulia mia cara giorgio un film scritto e diretto dalla nostra grandissima maria mauti avete appena visto la sua regia di norma per il teatro sferisterio una commissione nata sotto la guida dell'immenso paolo gavazzini parliamo bene di noi e ci piace fare ci parliamo addosso è un film ritratto intimo e appassionante di giulia lazzarini la musa e collaboratrice di una vita di giorgio streller nonché una delle attrici più importanti nel panorama italiano giulia mia cara giorgio e come iniziano e finiscono le tantissime lettere che il grande regista scrive all'attrice e appunto le sue risposte un dialogo elettivo interpretato e vissuto da giulia lazzarini che nel film offre riflessioni ed emozioni di una vita e il film che è prodotto da la doc e film mauti in collaborazione con il piccolo teatro di milano teatro d'europa con il sostegno di intesa san paolo è un film che siamo fierissimi di aver sostenuto e che avrete la possibilità di vedere anche su classica quindi domani alla festa del cinema di roma vi aspettiamo ore 21 al maxi giulia mia cara giorgio è anche una bella occasione per vedere piero perché lui non verrà particolarmente con commozione i compagni del movimento di bandiera rossa alcuni dei quali valorosissimi aladino godoni anzio malatesta eccetera furono fucilati a forte bravetta il 2 febbraio la tragica alba del 2 febbraio 1944 quando noi avevamo progettato un colpo che non facevamo per andarli a liberare arrivamo fino alle falde lì del forte bravetta e non riuscimmo non avemmo il coraggio non avemmo la capacità la forza di portare a termine un'operazione di attacco al camion delle di coloro che riportavano la fucilazione per un'operazione andata a buon fine l'evasione di due futuri presidenti della repubblica stiamo parlando di pertini e saragat anzi saragat e pertini da regina cieli ce n'è sempre una che purtroppo fallisce comunque le cose si mettono male 15 anni dalla scomparsa 21 ottobre del 2009 di giuliano vassalli nome che ha contraddistinto la nostra vita stupendo poi quando una volta che c'è il ministero che si chiamava di grazia e giustizia adesso il ministero di giustizia e basta la grazia non è più considerata senti giuliano vassalli partigiano giurista politico italiano appunto ministro di grazia e giustizia e in seguito giudice presidente della corte costituzionale fino al 13 febbraio del 2000 io sentivo sempre bianca vassalli bianca due volte allora giuliano vassalli nasce a perugia il 25 aprile quindi sotto il segno del toro del 1915 figlio d'arte perché filippo vassalli era un avvocato civilista che dal 1928 al 1942 presiede le commissioni istruttorie incaricate di redigere i lavori preliminari per la stesura del codice civile quindi in casa si mangiava pane e diritto e diritto e intere parti per esempio quella sulla proprietà che sono tuttora in vigore sono proprio state redatte dal padre la madre ed è importante ricordarlo è maria angeloni perché la figlia maria angeloni dell'avvocato repubblicano antimonarchico e antifascista publio angeloni amico tra l'altro del grande giornalista patriota e politico socialista martire dell'irredentismo cesare battisti altro familiare che si dimostrerà di grande influenza grande fonte di ispirazione per il giovane giuliano è lo zio mario angeloni il fratello della madre avvocato antifascista militante che ricordiamolo perseguitato dalla dittatura fascista sarebbe morto combattendo come volontario il 28 agosto del 1936 nella guerra civile in spagna 1932 il nostro protagonista giuliano vassalli si scrive alla facoltà di giurisprudenza dell'università di roma di cui è rettore nome che a tutti avrete sentito alfredo rocco il codice il ministro di grazia e giustizia dal 25 al 32 autore nel 1930 del codice di procedura penale fascisti e che in gran parte ricordiamolo sono ancora oggi in uso il codice rocco un po perché non si è voluto cambiare un po perché erano scritti bene sì è un po perché non si possono cambiare e giuliano vassalli potrebbe raccontarci qualcosa se fosse ancora qui sì perché ogni volta che si vuole mettere mano ai codici c'è un potere dello stato è calza la male dice guai a chi tocca muore va bene ma questa è un'altra storia senti lui si laurea con lode primo luglio del 1936 la tesi è una tesi penale sul reato di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice e il relatore di questa tesi è proprio arturo rocco cioè fratelli di alfredo rocco e i suoi fratelli con i suoi fratelli leonardo gli anni universitari di giuliano vassalli come per molti altri militanti della sinistra nel dopoguerra dei protagonisti della sinistra al guf cosa l'è cosa l'è il guf lui frequenta il guf gruppi universitari fascisti e si accosta diciamo al fascismo da una posizione radicale di comunista estremista io ho sentito recentemente in tv una cosa pazzesca siccome questi che erano tutti antifascisti che cercavano di convivere con un regime prima magari in modo più tiepido poi in modo più duro adesso improvvisamente siccome hanno fatto parte dei guf vengono inseriti di fatto nel fascismo to cur quindi si dice ma giorgio napolitano era fascista anche lui era nei guf non capendo niente di che cos'era quell'universo fatto di di mille differenze di mille distinguo basta basta pazzesco cosa accade che appunto lui come molti altri di fronte all'appoggio del fascismo al franchismo decide di abbandonare qualsiasi qualsiasi mediazione con il credo fascista e nel 38 inizia la sua attività didattica ad urbino come insegnante di diritto e procedura penale in quella bellissima università ma l'esperienza dura un attimo perché scoppia la guerra lui è richiamato alle armi già il 9 giugno del 1940 nel 42 lo troviamo a torino perché partecipa alla commissione italiana di armistizio con la francia e dal novembre viene assegnato come tenente di complemento alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare di roma è un incarico che abbandonerà dopo l'otto settembre perché con l'otto settembre del 43 nasce la scelta esatta cioè lui entra a far parte della lotta partigiana nell'agosto del 43 partecipa insieme a dei nomi fondamentali della storia repubblicana nenni pertini saragat romita alle famosi riunioni segrete che si tengono in casa di oreste lizzardi e che fanno nascere di fatto il partito socialista di unità proletaria si up viene messo a capo della quarta zona romana e delle brigate matteotti nel lazio e dopo l'arresto di sandro pertini entra nella giunta militare del cln del comitato di liberazione nazionale al posto appunto di pertini e tiene questo incarico fino alla riuscita dell'evasione pesa la siamo siamo partiti di pertini saragat e altri cinque membri della resistenza da regina celi il 24 gennaio del 1944 quell'evasione è una storia incredibile cioè il piano fu ideato da giuseppe gracceva che al comandante delle brigate matteotti e prevedeva che pertini saragat e gli altri cinque fossero rilasciati grazie a dei falsi moduli che venivano procurati proprio da vassalli con la connivenza di alfredo monaco alfredo monaco era il medico di regina celi di sua moglie marcella e di ugo gala ugo gala era l'agente di custodia il piano quasi fallisce e solo l'intraprendenza di marcella monaco e di filippo lupis riuscì a fare a fare evadere appunto i nostri due poi presidenti della repubblica attraverso una falsa telefonata cioè lupis sostanzialmente impersonò il funzionario incaricato di ordinare la scarcerazione e bleffando disse messi immediatamente tutti alla porta per dio e il funzionario carcerario di fronte a questa sicurezza disse va bene facciamoli uscire allora nella sfortuna è fortunato il nostro vassalli perché 3 aprile del 44 quindi siamo dopo il massacro delle fosse radiatine viene catturato dalle ss e portato nel famigerato carcere di via tasso dove subisce due mesi di interrogatori vessazioni torture fino al 3 giugno del 44 quando alla vigilia della liberazione di roma viene liberato grazie all'intercessione di un grandissimo giovanni battista montini che sarà il futuro papa paolo sesto che allora era il sostituto della segreteria di stato di pio XII per la sua dedizione alla causa antinazifascista e per il coraggio dimostrato sia in azione che nel momento della detenzione a giuliano vassalli viene attribuita la medaglia d'argento al valor militare non dimentichiamoci che molti dei personaggi della nostra repubblica sono stati in carcere sono stati torturati in alcuni casi non sono diventati grandi personaggi perché sono stati anche trucidati non lo dimentichiamo mai c'è anche chi dice che proprio questa classe dirigente era così forte così importante così autorevole per per essersi fatta le ossa in circostanze così drammatiche mentre diciamo i leader di oggi provengono da tutt'altra esperienza e parliamo di tutti e parliamo di comunisti di democristiani di liberali di repubblicani e naturalmente di socialisti e uno dei primi obiettivi che ci ponemmo fu quello che non potevamo puntare alla sola liberazione di sarvat che dovevamo in ogni caso puntare anche alla liberazione di sandro pertini che per noi era essenziale perché era poi il nostro capo diretto di cui eravamo rimasti privi e che dovevamo anche liberare il massimo numero di compagni detenuti a regina cedi fare un'operazione globale collaboravo strettissimamente con giuseppe gracieva che era il capo dell'organizzazione romana e che fu sia consentito dirlo il vero artefice di tutta questa operazione liberazione pertini saragat e altri cinque nostri compagni dal braccio tedesco del carcere di regina cedi la via più semplice e più realizzabile non era né quella dell'attacco né quella della segatura delle sbarre ma fu quella al mio giudizio della della compilazione di fogli di scarcerazione regolari fatti su fogli sfornitici dai compagni Vassalli e Massimo Vassero e Giannini i quali stavano nel servizio militare presso gli uffici giudiziali alla fine della guerra il 31 gennaio del 1946 Vassalli si esprime a favore della legittimità del processo di Nuremberg nello scritto i delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione quindi questo lo porta a tra le varie cose a essere uno dei pionieri italiani della giustizia internazionale penale dall'inizio del dopoguerra fino al 56 insegna all'università di Genova e poi poi si va a Napoli e poi a Roma dove terrà la cattedra di diritto penale dal 1960 fino al ritiro quindi per 30 anni nel 90 allora abbiamo detto Vassalli è stato un militante socialista attivo nel corso di una vita intera e anche nell'ambito politico lo ricordiamo molto bene Vassalli ha portato la sua personalità ferma nelle proprie convinzioni nei valori era un uomo delizioso perché era mite ma coraggioso molto fermo e quindi non era ruvido diciamo era un uomo gentile era un uomo in ascolto e la sua è una carriera di servizio politico in costante ascesa lui dal 62 al 66 un curso sonoro incredibile perché prima entra in consiglio comunale a Roma poi diventa deputato alla Camera poi dagli anni 70 è senatore capogruppo socialista negli anni di Bettino Craxi presidente del consiglio siamo tra il 1983 e il 1987 nel 78 il suo nome viene fatto per la prima volta nel corso dell'elezione alla presidenza della Repubblica che alla fine farà eleggere un altro socialista Sandro Pertini a lui legato come abbiamo visto in maniera molto stretta Leonardo durante il mandato come ministro di grazia e giustizia siamo appunto tra il 1987 e il 1992 quindi arriviamo proprio ci affacciamo a Tangentopoli lui presenta il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale e questo codice redatto da una commissione che era stata tra l'altro presieduta da Gian Domenico Pisapia viene approvato nell'88 e entra in vigore nell'89 diventando poi noto come il codice Pisapia-Vassalli da non confondersi con la legge Vassalli la celebre legge Vassalli quella dell'88 che sanziona la responsabilità giuridica dei magistrati italiani per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie qui veniamo a un punto cruciale della nostra storia non esprimo giudizi ma mi limito a raccontare i fatti nel 1992 lui è di nuovo in lizza per l'incarico a presidente della Repubblica Bianca, Vassalli, Bianca all'undicesimo scrutinio lui si ferma a 158 voti Scalfaro, Bianca e si ritira, rinuncia a favore di Oscar Guigi Scalfaro che viene eletto poi nel sedicesimo scrutinio io non voglio esprimere giudizi ma voglio soltanto dire che la storia della nostra Repubblica se fosse diventato presidente Vassalli e non Scalfaro sarebbe stata molto diversa ricordiamo che Vassalli tra le altre cose anche cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana dal 66 si spegne con la stessa delicatezza e lo stesso riservo con cui aveva vissuto la comunicazione della morte viene data dai familiari alla stampa a esequi avvenute secondo la sua stessa volontà in punta di piedi Giuliano Vassalli, chapeau noi nel nostro movimento di resistenza ci sono stati degli appoggi ci potevano essere o meno ma non si è trattato di questo si è trattato del nostro costante richiamo a degli ideali umanitari di lotta contro un'oppressione barbara e brutale che voleva ridurre il mondo in condizioni inimmaginabili o che si possono tradurre attraverso la visione dei campi di sterminio e vi era quindi questo impulso che accomunava i sofferenti gli oppressi e coloro che fossero ispirati da nobili ideali in tutto il mondo quindi quello che si può essere tradotto qualche volta in aiuto in appoggio esterno era il grande afflato oserei dire universale europeo come ha detto come ha giustamente richiamato Boldrini mondiale potremmo dire al di là di tutte le forze che lottavano contro il nazismo e contro il nazifascismo si potrebbe dire a questo punto allora che c'è un terzo motivo per cui il paragone tra le due lotte armate si rende chiarissima la differenza insomma abissale quello del rapporto col sentimento nazionale con gli interessi nazionali Siena ha onorato il quinto centenario della morte di un suo illustre figlio dedicando al nome immortale di Jacopo della Quercia maestro d'eccezione nella scultura del 400 quella che fu Piazza Manetti dove all'augusta presenza di sua maestà il re imperatore è stata scoperta una lapide che ricorda la località dove sorgeva la bottega in cui lavorò l'artefice che, giusto il testo dettato da Adolfo Venturi gettò il ponte di Gloria fra Giovanni Pisano e Michelangelo il sovrano si è quindi recato al palazzo civico dove è stato salutato da vibranti manifestazioni di popolo e dal pittoresco quadro degli alfieri delle 17 contrade che al rullo dei tamburi hanno eseguito la sbandierata in suo onore oggi parleremo dello scultore Jacopo Di Piero ma non è mio no perché è della quercia sì nato forse nel 1374 a Siena la data proprio non la sappiamo non è fondamentale ma sappiamo che è morto oggi sì e oggi nel 1438 quindi quanti anni fa? 586 è bravissimo è velocissimo Leonardo sì sì all'impronta come Rain Man senti Leonardo è stata una delle figure più originali dell'arte tutta del 400 sì è uno dei giganti del primo rinascimento è uno dei grandi pionieri di quel momento Ghiberti Donatello Brunelleschi Leon Battista Alberti e sicuramente un posto d'onore spetta anche a Jacopo della Quercia anello di congiunzione tra la cultura della sua città di Siena che era ancora legata al tardo gotico anche per le rivalità note rispetto a Firenze e i nuovi orientamenti che appunto andavano maturando nella capitale della Toscana sì certamente Firenze era più avanti ma era più avanti anche per una questione politica lo stile nuovo di Firenze la poneva in contrasto con questo gotico infinito però un gotico francese un gotico meraviglioso di Siena se voi oggi andate a Siena vedete nel Battistero Ponte Battesimale ideato gestito concluso da Jacopo della Quercia però insieme in sfida con altri grandi artisti che poi sono gli artisti che si sono sfidati ad esempio nel Battistero di Firenze quindi Ghiberti Donatello dove Donatello però diciamo la verità primeggia sempre poco da fare sì non che gli altri appunto no è un modo anche proprio diverso di interpretare il concetto della prospettiva della nuova fisicità delle sculture lui è scultore totale è meno interessato al concetto della prospettiva è meno delicato rispetto a Donatello senti siccome mancano le notizie dobbiamo affidarci alle Grammont quello che dicevano di sciracchi francesi sì Vasari Vasari e Vasari ci dice nelle sue vite che il della quercia così si chiamava perché è nato a querce grossa invece in realtà probabilmente il soprannome gli arriva in eredità del nonno perché il nonno Antonino era detto della guercia cioè figlio di una donna con gli occhi stolti un guercino un guercino parente di della quercia senti passiamo alle cose che sappiamo figlio d'arte suo padre faceva l'orefice e l'intagliatore e quindi per gli rami certo le prime armi del mestiere le apprende proprio in casa abbiamo notizie di una sua permanenza nella splendida Lucca presso la bottega di un altro artista aveva vent'anni e sappiamo che a un certo punto lui viene bandito da Lucca perché aveva picchiato violentemente un uomo sì Vasari ci dà di Jacopo della quercia questa descrizione di un temperamento inquieto insofferente un artista che protraeva i suoi lavori a lungo spesso contrasti violenti con quelli che lo circondavano una sorta di caravaggio antelittera certo Leonardo sappiamo che anche se scappato da Lucca per non incorre in rappresaglie giudiziarie quelle degli articoli del codice scritti da Vassalli lui ha mantenuto comunque con il mercato artistico della zona di Lucca delle relazioni durature anche perché il signore di Lucca il Buinigi aveva un'ottima relazione con il nostro Jacopo della quercia Paolo Nguinigi straordinario committente per lui realizza questo notissimo monumento cioè io vorrei fare Niccolò dell'Arca per esprimere la vertigine di quando vedi l'aio del carretto sì che è una delle opere più rappresentative della scultura italiana anche questa diciamo è una scultura abbastanza di passaggio tra il mondo di prima e il nuovo mondo classico nel senso che lei è raffigurata come in un'opera medievale sdraiata con i sepolcri tipici delle cattedrali francesi però ai piedi di Ilaria che era figurata con una dolcezza e una verità tutta nuove c'è un bellissimo fregio con i putti e le ghirlande che sicuramente è di derivazione dei sarcofagi del mondo classico che Jacopo certamente poteva vedere da quelle parti Pisa ad esempio Ilaria del carretto era la seconda moglie del signore di Lucca ed era morta di parto a soli 26 anni quest'opera ha avuto una grandissima fortuna nella letteratura pensiamo a Pasolini D'Annunzio Quasimodo tutti hanno detto la loro fino ai tromboni più recenti questo senso di solitudine dormiente che però viene in qualche modo addolcito interrotto amplificato dal cagnolino dormiente è la bella addormentata è la bella addormentata infatti ho cercato di baciarla e sono arrivati quelli col camice bianco ho fatto due giorni nella stanza con i cuscini alle pareti certamente Firenze in quel momento i grandi cantieri che meravigliano tutti quelli che passano di lì Firenze coinvolge anche Jacopo della Quercia che ha bisogno appunto di lavorare e quindi si reca al cantiere di Santa Maria del Fiore partecipa al mitico concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di San Giovanni quello che viene vinto da Lorenzo Ghiberti abbiamo perso il progetto il progetto cioè il modello della sua formella si trova nel 1403 a Ferrara dove esegue una scultura bellissima la Madonna della Melagrana e poi nella sua Siena la Fontana la Fonte Gaia di Piazza del Campo che oggi è sostituita da una copia gli originali si trovano all'interno dell'ospedale di Santa Maria della Scala di fronte al Duomo allora la fonte è composta da un bacino rettangolare racchiuso da un parapetto di soli tre lati su questi si alternano dei bassorlievi che raffigurano la creazione di Adamo la cacciata dall'Eden e al centro una Madonna col bambino che è circondata dalle virtù e dagli angeli era scolpita in marmo fragile e perciò appunto un po' marridotta e poi col palio era un po' nei piedi diciamo certo perché durante un palio del 1743 quindi non posso essere accusato di essere responsabile dove si sa che i partecipanti a volte non sono proprio educatissimi è certo perché un tifoso secondo me della lupa si è arrampicato su una delle due statue e l'ha mandata in pezzi naturalmente stavo scherzando non me ne vogliano gli amici nemici della lupa perché sul palio non si può scherzare non si scherza cioè roba seria noi scherziamo su tutto ma sul palio no 1413 altra disavventura un cittadino di Lucca lo accusa di avergli rapito la moglie è lui e un suo collaboratore Giovanni da Imola e in effetti sembra che questo Giovanni da Imola collaboratore di Jacopo della Queccia avesse una relazione con questa signora Giovanni da Imola stava con la signora di Lucca cose che capitavano e continuano a capitare ah sì? tra artisti poi certo c'è una certa promosquità senti quindi si deve ancora scappare mentre Giovanni viene arrestato e finisce al gabbio per quattro anni sì a Lucca non a Imola no torna però a Lucca e finisce il politico in marbo della Cappella 30 siamo nella basilica di San Frediano quattro figure e una grande Madonna al centro grande Madonna perché in effetti c'è un certo gigantismo una certa voglia di stupire con le masse muscolari nell'arte di Jacopo della Quercia c'è chi ha voluto vedere in questa così enfasi per le masse i muscoli e la fisicità delle sculture di Jacopo della Quercia il precursore ecco sì un prodromo dell'arte di Michelangelo Michelangelo che in effetti si sarebbe poi trovato a lavorare a Bologna a pochi metri da uno dei grandi capolavori di Jacopo della Quercia e cioè il portale di San Petronio con le storie della Genesi senti sempre sempre in movimento il nostro Jacopo della Quercia lo sappiamo per le sue commissioni a Lucca Siena San Gimignano e appunto Bologna Bologna che dimostra come ultima tappa quanto quest'uomo sia stato anche precursore del modello dell'artista rinascimentale sì perché se Donatello inseriva le sue sculture nella prospettiva architettonica creando una continuità tra architettura e scultura in questo caso lui scolpisce tutto cioè il portale di San Petronio è una scultura totale ogni elemento architettonico è in realtà una prova di virtuosismo e questo si vede anche appunto in quella gara che citavo prima nella gara del Battistero di Siena dove insieme a lui si trovano di nuovo i grandi del momento cioè Ghiberti e Donatello sono le scene di San Giovanni Battista quindi c'è il momento scolpito da Donatello di Erode il banchetto di Erode in cui il carnefice gli porta la testa del Battista ed Erode fa così che prende spavento è una scena famosissima tutta giocata su dei piani in successione addirittura dall'ultimo restauro oggi l'opera è completamente restaurata andatela a visitare dopo un restauro durato tre anni e seguito dall'opificio delle pietre dure addirittura si è scoperto che c'erano dei tiranti queste sottili pareti divisorie del bronzo per creare un maggiore aggetto e creare quindi una prospettiva più significativa e credibile si tratta di un pantheon della scultura per un solo fonte battesimale Jacopo della Guercia dove poteva morire a Siena il 21 ottobre del 1438 e qui viene sepolto e i suoi beni per sua volontà passano ai fratelli ma chiede di lasciarne una parte ad alcuni allievi che lo avevano seguito nella sua vita da pellegrino con lo scalpello Jacopo della Quercia bravo Leonardo siccome anche a te capiterà di trapassare lasciami qualcosa va bene ci penserò no dovresti fare così i cattivi direbbero sempre un giorno dopo di te la moglie del potentissimo e coltissimo signore di Lucca Paolo Guinigi Ilaria del Carretto morì giovanissima 25 anni e la fece rappresentare commemorare da Jacopo della Guercia grandissimo scultore senese che era al suo servizio siamo nei primissimi anni del 400 lo scultore era circa trentenne e quella scultura è memorabile per l'incontro l'incastro tra lo stile borgognone francese e quello italiano moderno la ragazza dorme serena immobile elegantissima con il suo cercene nei capelli e con ai piedi un molosso il cane degli antichi romani che li accompagnava nelle lotte nelle guerre la fedeltà fedeltà all'arte e fedeltà alla bellezza monumento eccelso Leonardo oggi è lunedè e lunedè è in berlè che vuol dire in berlato cosa significa in berlato? qualcosa di sgangherato a seguito di un urto beh posso dire che oggi è lunedè e il timbota è tutto per me perché è lunedè e io mi sento molto in berlè sei in berlato io sono sempre in berlato ah ecco ho capito allora ti diciamo ti do un po' di sollievo perché parli di Pierrot di Pierrot Pierrot eccolo Gilles Gilles o Pierrot che dir si voglia 1719 ne abbiamo parlato l'altro giorno Vattò il grande Vattò perché c'è una mostra Revoir Vattò fino al 3 febbraio al Louvre il Pierrot è stato restaurato e quindi intorno a quest'opera una piccola mostra dossier molto intelligente quindi andiamo tutti quindi andiamo tutti a Parigi al Louvre ricordiamo che il Pierrot fu acquistato nel 1804 pur lui même per se stesso dal mitico direttore del Louvre Vivant de Nantes che non sbagliava c'è il padiglione de Nantes c'è il padiglione sui e il padiglione Michelier non c'è il padiglione de Nantes Delon Alain Delon non l'hanno ancora fatto alcuni lo dicono io ho sentito dirlo non Delon padiglione Delon perché uno dice Alain Delon giustamente c'è il pavillon e poi ha comprato un sacco di palquet al posto del parquet a un certo punto De Nantes muore e l'opera viene venduta con le pléthorique collezion de Nantes perché è una collezione molto importante nel 1826 e 40 anni dopo cioè nel 1869 entrerà con il lascito del dottore Louis Lacazze nelle collezioni del Louvre lui Lacazze Louis Lacazze Jean Valjean Louis Vuitton tutto ton pipon taton sarebbe bello andare insieme al Louvre mi piacerebbe molto Leonardo non l'abbiamo mai fatto è vero è una cosa che mi fa molto pensare ma lui al Louvre va con un altro genere umano ecco io vado con Amerigo tenendolo per mano con un trolley con un trolley con un girello va bene chi cambia canale stasera è davvero un Amerigo o un girello o un girello e ve lo siete meritati a domani a domani